All'interno del parco Giardino Sicurtà si trova una fattoria didattica e all'interno della fattoria didattica vivono tre specie di galline diverse tra loro, l'ermellinata, la lionata e la padovana. E noi dello staff ci prendiamo cura anche dei loro pulcini. Ora vi faccio vedere. Questo pulcino dalle piume rosse è il pulcino di una gallina lionata. Guardate che bello! Questo pulcino giallo-limone invece è il pulcino di una gallina ermellinata. Questo pulcino con la cresta da moicano è invece il pulcino di una gallina padovana, le galline famose per il loro ciuffo. In fattoria didattica in questo momento non le troverete perché stanno crescendo, curate dal nostro staff, ma trovate le mamme e i papà. Quindi venite a trovarci!